Incidente alla piattaforma metanifera Barbara F. a largo dell'Adriatico, Trancone e Pesaro. Il bilancio parla di un morto e di due feriti. La procura di Ancona ha aperto un'inchiesta. Alle 7.45, a bordo della piattaforma della società Eni, situata in acque internazionali a circa 60 km dal porto di Ancona, durante l'operazione di trasbordo di un bombolone di azoto, si è verificato il cedimento strutturale delle infrastrutture su cui era installata la gru di sollevamento. La gru e la relativa cavina di comando sono cadute in mare. All'interno c'era un dipendente Eni di 63 anni. Il suo corpo, dopo ricerche durate ore, è stato ritrovato dai sommozzatori nel primo pomeriggio. La vittima era molisana, residente da anni a San Salvo, a Chieti. Nella caduta le infrastrutture hanno impattato con il supply vessel sul quale doveva essere posizionata la bombola di azoto. Sono rimasti feriti due operatori di Ravenna, uno di 53 e uno di 48 anni. Sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Torrette di Ancona. Ora risultano fuori pericolo. La gru e la cabina sono sommerse a circa 30 metri di profondità. Sul posto sono intervenute motovedette dalla guardia costiera del porto di Ancona e una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco. La struttura è stata posta sotto sequestro dalla procura di Ancona, in attesa delle indagini.